Sono Lorenzo Martelli, provengo dal Romagna Handball, in settimana dell'Emilia Romagna. Oggi abbiamo giocato contro il Modena, abbiamo perso di 12-13 gol. Sicuramente non è stata una partita dal punto di vista del risultato estremamente positiva, abbiamo realizzato sui 17 gol, ma c'è da dire comunque che avevamo 12-13 giocatori che erano la prima volta che giocassimo insieme. Comunque l'obiettivo dell'allenatore era quello di apprendere le schematiche e comunque secondo me ci sono stati dei passi avanti. Poi i prossimi raduni serviranno proprio per migliorare le varie schematiche.